Buongiorno, buongiorno, festa della mamma e come regalo non poteva che esserci un bel giro sulla bici da strada. Mi sa che è arrivata qua contente ma avrà fatto tutto per altri. Stefano, sempre in mente, si è seduta lì, però... Ah, vissi. Ah, vissi. C'è questo qua da mamma, ti fa prendere. Grazie. 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 Grazie.